Pronta? Pronta! Pronta! Dai Terry! Forza! Siamo nel parco della Cittadella Non ci sono mai stata Ah va che bello! Ah va? Stravene la mia scelta! 1, 3, 1, 1, vai! Gireremo poi degli stretti ridicati Che sbalperemo sotto il video Degli scatti Stretti belli eccetera Ok E' un impatico da caminar Regalame Otro dia mas Perché voglio vedere te qui Abrazzare e sonreire Regalame Regalame Otro dia mas Perché tienes que saber Che a noche te soñé Un momento di tensione per la nostra coppia Che sta per litigare clamorosamente Everybody please Opetta ripresciare 3, 2, 1 Acce! No, no, no Stiamo girando tutta la città velocemente, poi stasera, quando finiamo le riprese, ho un aereo alle 9.30 per tornare in Italia. Non so se ce la faremo, se rimarrò qua a Barcellona per sempre. Quindi ti giri di là verso sinistra, fai una foto di là, giri verso dentro. È molto raro vedere una persona che la vedi sempre a la tele e, di repente, incontrattela qui, a metro, però è molto simpatico e è molto bella la esperienza. È incredibile, è un sogno fatto in realtà. Regalame otro día más.